Illuminazione a macchia di leopardo con alcune strade completamente al buio. Così, da molti mesi, ogni sera si presenta mistretta. Una situazione che preoccupa i residenti, che chiedono da troppo tempo che questo problema venga risolto. Ma da quello che si vede, gli appelli sono rimasti inascoltati. Quindi i disagi provocati dalle vie completamente al buio continuano. Caso emblematico è la centralissima via Vincenzo Salamone, che già dalla scorsa estate si presentava a buia, ma anche altre strade e vius del centro abitato restano senza illuminazione pubblica. Continuando il giro per Mistretta c'è anche la via Antonio Gramici, una strada molto frequentata perché in prossimità vi si trovano gli impianti sportivi, che di recente è stata proprio interessata da lavori di rinnovo della pubblica illuminazione. Ma da quello che si vede dalle immagini la strada è ancora poco illuminata e la stessa cosa vale per la diagente via Pagliaro, al buio da troppi mesi. In Mia Giancavalieri alcuni lampioni illuminano la strada e altri no, come uno che si trova in prossimità di un importante incrocio. In Mia Giacomo Matteotti una lampada si accende e si spegne in continuazione, mentre la strada che porta verso il cimitero comunale si presenta anch'essa con pochi lampioni funzionanti e quindi con scarsa illuminazione. Il quadro che emerge mette in evidenza mancanza di sicurezza, paura per l'incolumità fisica e problemi di circolazione stradale.